Quale sarà il valore dell'unico anello? Il suo prezzo supererà di gran lunga quello delle carte che hanno segnato dei record storici di vendita? E cosa ci dovremmo aspettare una volta che il crossover tra Magic ed il Signore degli Anelli arriverà sugli scaffali dei numerosi centri ludici nazionali ed internazionali? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Manca poco all'arrivo del nuovo set di Magic the Gathering a tema Signore degli Anelli dove i vari grimori presenti nel gioco mostreranno tutte le bellezze e gli orrori della terra di mezzo. Non è comunque solamente la venuta di questo mix di titoli che ha suscitato l'interesse degli appassionati ma anche soprattutto la presenza di una carta, una nello specifico, che letteralmente sarà unica nel suo genere. Avete presente i drago bianco occhi blu della serie animata di Yu-Gi-Oh? Che ne esistevano solo quattro al mondo, uno dei quali è andato distrutto per mano di Kaiba, il quale possedeva i restanti tre? Ecco, si parla di una cosa del genere. Infatti l'unico anello che presenterà le incisioni nella lingua di Morgoth direttamente trascritte sulla carta sarà proprio unico, nel senso che ne esisterà una sola copia in tutto il mondo. E quindi dall'uscita della notizia si è partiti con speculazioni sul suo eventuale costo. C'è chi dice che il prezzo potrà oscillare attorno ai 100.000 dollari e chi invece che si potrà avvertere sul milione. Insomma, di teorie ce ne sono state e non poche. Per renderci conto quindi di cosa ci aspetterà una volta che nani, elfi, uomini ed orchi compariranno sui tavoli da gioco, ho deciso di prendere in considerazione tre carte che hanno stabilito prezzi da record attraverso le loro vendite, paragonandole infine con l'eventuale valore che potrà avere l'arma dello scuro signore. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un clic del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone. Per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali sono le tre carte più costose di sempre e se l'unico anello avrà qualche possibilità di tenergli testa. Andiamo a dargli un'occhiata. Al terzo posto troviamo il famosissimo Black Lotus. Carta stampata unicamente nei set alfa e beta nel lontano 1993, il loto ha fatto parte delle celebri Power Nine, insieme ad Ancestral Recall, Time Walk, Time Twister e i vari Mox. Ma perché questa carta è così potente? Essa permetteva a chi la giocava di ottenere tre mana a costo zero, fornendogli un vantaggio considerevole ai danni di chi gli giocava contro. Considerando che al tempo poi nel deck se ne potevano giocare quattro, il vantaggio risultò essere esponenziale e quindi troppo forte, venendo bandita di lì a poco in quasi tutti i formati ufficiali torneistici, ad eccezione del vintage, dove però è limitata ad una copia sola. La domanda ora è, perché costa così tanto? Ebbene, 30 anni dopo, il Lotus è diventato una carta ambitissima per i collezionisti, dato che oltre le edizioni alfa e beta, le versioni anticate della carta non sono state stampate, creandone così una tiratura limitata. Negli ultimi anni, quindi, le condizioni eccellenti di alcuni loti hanno fatto sì che si raggiungessero prezzi da capogiro nelle varie aste per collezionisti, arrivando a toccare dapprima nel 2019 quota 215 mila dollari, per poi nel 2023 superare di gran lunga il valore del precedente attestandosi sui 615 mila dollari. Il motivo di tale costo? Quest'ultima riportava direttamente sulla parte frontale la firma del compianto disegnatore Christopher Rush, scomparso nel 2016. Al secondo posto troviamo il Black Looster Soldier, rilasciato nel primo torneo di sempre di Yu-Gi-Oh! svoltosi in Giappone nel lontano 1999. Questa carta non solo è la più costosa e rara dell'universo di Yu-Gi, ma anche una delle più costose e rare in assoluto. Infatti, non facendo parte di uno specifico set, non ne sono state stampate altre nel corso degli anni. La sua peculiarità però sta nella realizzazione. Infatti è stata stampata su una lamina di acciaio inossidabile, rendendola praticamente immortale al passare del tempo. E qui credo che si inizi a comprendere la motivazione di un valore elevato. Infatti, 14 anni dopo, nel 2013, il vincitore del torneo ha deciso di metterla in vendita ad un prezzo di 10 milioni di dollari. Una cifra davvero sbalorditiva, che però non ha mai visto una vendita. Si sa solamente che alla fine il venditore si sia accordato con un acquirente per soli 2 milioni di dollari, conferendo al Black Looster il titolo di seconda carta più rara e costosa del mondo. Sul gradino più alto del podio troviamo infine il Pikachu Illustrator, assegnato ai vincitori dei tre contest di illustrazione Pokémon pubblicizzati su Korokoro Comics. Il Pokémon Car Game Illustrator Contest è stato il primo pubblicato sulla rivista nel lontano novembre 97, annunciando nel gennaio del 98 i tre vincitori, Yuki Kawamura, Keita Takashi e Kasumi Matsuda, che hanno ricevuto un Pikachu Illustrator a testa. Il secondo evento fu pubblicato sempre nel 98 e sempre sul medesimo magazine, prendendo il nome di Mewtwo's Counter-Attack Commemoration Illust Artist Contest, il quale vincitore, Kazuhiko Nishihara, ha ricevuto a sua volta una carta promozionale Pikachu Illustrator. Mentre il terzo ed ultimo evento pubblicato sempre da Korokoro Comics, chiamato Pikachu's Summer Vacation Commemoration Illust Artist Contest, svoltosi sempre nel 98, ha visto altri quattro vincitori a giudicarsi una copia di Pikachu Illustrator. Come visto ne sono state assegnate diverse nell'arco dei primissimi anni di vita del gioco, produzione che infine si è fermata a 39 copie sparse in tutto il mondo. E allora perché questa carta si trova al primo posto? Di certo lo dobbiamo a Logan Paul. Lo youtuber ed imprenditore statunitense ha reperito infatti l'unico Illustrator valutato con grado 10 da PSA e questo esemplare non gli è costato due spiccioli, ma la bellezza di 5 milioni 275 mila dollari, sparando nell'Olimpo delle carte più costose questo pezzo da collezione davvero di grande valore. Ebbene dopo loti, guerrieri e Pokémon iconici arriviamo a trattare la carta protagonista di questo video, ovvero l'unico anello. I fattori principali che andrò a prendere in considerazione per un'ipotetica valutazione saranno tre. Rarità, richiesta e reperibilità. Per il primo dei tre è più che palese che in questo caso si tratterà di un solo pezzo stampato al mondo, serializzato 001-001. Ciò porterà i collezionisti più accaniti a sfidarsi a suon di offerte fino a che uno solo prevarrà, magari sfiorando cifre davvero folli o magari no. Una cosa è certa, chiunque riuscirà a trovarlo potrà tranquillamente ritirarsi a vita privata. Per la richiesta il focus non sarà ampio. Come già accennato, i più interessati saranno i collezionisti o solo di Magic, o solo i fan di Tolkien, o magari entrambi. Quindi dipenderà tutto da loro e dall'interesse che dimostreranno nel voler acquistare un simile pezzo da collezione, cosa che di sicuro susciterà un tumulto economico non da poco. Anche se saranno 700-800 mila euro, concorderete con me che non si parlerà di cifre accessibili a tutti. Infine, per la reperibilità, signori, c'è da considerare anche un fatto. Magari nessuno lo troverà mai, calcolando che là fuori ci sono ancora un numero di Black Lotus che si aggirano attorno alle 4-5000 unità. E quindi non vorrei fare il guastafeste. Alla fine della fiera, l'unica che ci avrà davvero guadagnato sarà la Wizard, reale nemico dei nostri portafogli. Ma sto ragionando nel peggiore dei casi. Mi auguro che qualcuno riesca a trovarlo mostrando a tutti gli appassionati dei giochi di carte collezionabili questo pezzo da collezione storico. Quindi, di certo, si sta parlando di un elemento che avrà tutte le armi a disposizione per competere tranquillamente con i colossi precedentemente menzionati. E data la sua peculiarità, non mi aspetto altro che una lotta all'ultimo rilancio. Concludendo, il valore di una carta del genere potrà partire dai 100 mila dollari tendente all'infinito. È ancora presto per dirlo. Come sempre, solamente il mercato, con le sue dinamiche ed il tempo traducibile in qualche fortunato che riuscirà a trovarlo, sapranno darci una risposta. E voi andrete alla ricerca dell'unico anello? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.